Papa Francesco, Udienza Generale, 22 giugno 2022 Catechesi sulla Vecchiaia Pietro e Giovanni Nel nostro percorso di Catechesi sulla Vecchiaia oggi meditiamo sul dialogo tra Gesù risorto e Pietro al termine del Vangelo di Giovanni. E' un dialogo commovente da cui traspare tutto l'amore di Gesù per i Suoi discepoli e anche la sublime umanità del suo rapporto con loro, in particolare con Pietro. Un rapporto tenero, ma non melenso, diretto, forte, libero, aperto. Un rapporto da uomini e nella verità. Così il Vangelo di Giovanni, così spirituale, così alto, si chiude con una struggente richiesta e offerta d'amore tra Gesù e Pietro che si intreccia con tutta naturalezza con una discussione tra loro. L'Evangelista ci avverte Egli rende testimonianza alla verità dei fatti ed è in essi che va cercata la verità. Possiamo chiederci siamo capaci noi di custodire il tenore di questo rapporto di Gesù con i discepoli secondo quel suo stile così aperto, così franco, così diretto, così umanamente reale? Com'è il nostro rapporto con Gesù? È così come quello degli apostoli con Lui? Non siamo invece molto spesso tentati di chiudere la testimonianza del Vangelo nel bozzolo di una rivelazione zuccherosa alla quale aggiungere la nostra venerazione di circostanza? Questo atteggiamento, che sembra rispetto, in realtà ci allontana dal vero Gesù e diventa persino occasione per un cammino di fede molto astratto molto autoreferenziale, molto mondano che non è la strada di Gesù Gesù è il verbo di Dio fatto uomo e Lui si comporta come uomo Lui ci parla come uomo Dio uomo con questa tenerezza con questa amicizia con questa vicinanza Gesù non è come quell'immagine zuccherosa delle immaginette no Gesù è alla mano nostra è vicino a noi Nel corso della discussione di Gesù con Pietro troviamo due passaggi che riguardano precisamente la vecchiaia e la durata del tempo il tempo della testimonianza il tempo della vita il primo passo è l'avvertimento di Gesù a Pietro quando eri giovane eri autosufficiente quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e della tua vita dillo a me che devo andare in carrozzina ma è così la vita è così con la vecchiaia ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono no? non abbiamo la forza dei giovani e anche la tua testimonianza dice Gesù si accompagnerà a questa debolezza tu devi essere testimone di Gesù anche nella debolezza nella malattia e nella morte c'è un passo bello di Sant'Ignazzo di Loyola che dice così come nella vita anche nella morte dobbiamo dare testimonianza di discepoli di Gesù il fine vita deve essere un fine vita di discepoli di discepoli di Gesù perché il Signore ci parla sempre secondo l'età che abbiamo l'Evangelista aggiunge il suo commento spiegando che Gesù alludeva alla testimonianza estrema quella del martirio e della morte ma possiamo ben intendere più in generale il senso di questo ammonimento la tua sequela dovrà imparare a lasciarsi istruire e plasmare dalla tua fragilità dalla tua impotenza dalla tua dipendenza da altri persino nel vestirsi nel camminare ma tu seguimi la sequela di Gesù va sempre avanti con buona salute con non buona salute con autosufficienza e con non autosufficienza fisica ma la sequela di Gesù è importante seguire Gesù sempre a piedi di corsa lentamente in carrozzina ma seguirlo sempre la sapienza della sequela deve trovare la strada per rimanere nella sua professione di fede così risponde Pietro signore tu lo sai che ti voglio bene anche nelle condizioni limitate della debolezza e della vecchiaia a me piace parlare con gli anziani guardandoli negli occhi hanno quegli occhi brillanti quegli occhi che ti parlano più delle parole la testimonianza di una vita e questo è bello dobbiamo conservarlo fino alla fine seguire Gesù così pieni di vita questo colloquio tra Gesù e Pietro contiene un insegnamento prezioso per tutti i discepoli per tutti noi credenti e anche per tutti gli anziani imparare dalla nostra fragilità ad esprimere la coerenza della nostra testimonianza di vita nelle condizioni di una vita largamente affidata ad altri largamente dipendente dall'iniziativa di altri con la malattia con la vecchiaia la dipendenza cresce e non siamo più autosufficienti come prima cresce la dipendenza dagli altri e anche lì matura la fede anche lì c'è Gesù con noi anche lì sgorga quella ricchezza della fede ben vissuta durante la strada della vita ma di nuovo dobbiamo interrogarci disponiamo di una spiritualità realmente capace di interpretare la stagione ormai lunga e diffusa di questo tempo della nostra debolezza affidata ad altri più che alla potenza della nostra autonomia come si rimane fedeli alla sequela vissuta all'amore promesso alla giustizia cercata nel tempo della nostra capacità di iniziativa nel tempo della fragilità nel tempo della dipendenza del congedo nel tempo di allontanarsi dal protagonismo della nostra vita non è facile allontanarsi dall'essere protagonista non è facile questo nuovo tempo è anche un tempo della prova certamente incominciando dalla tentazione molto umana indubbiamente ma anche molto insidiosa di conservare il nostro protagonismo e alle volte il protagonista deve diminuire deve abbassarsi accettare che la vecchiaia ti abbassa come protagonista ma avrai un altro modo di esprimerti un altro modo di partecipare nella famiglia nella società nel gruppo degli amici ed è la curiosità che viene a Pietro e lui dice Pietro vedendo il discepolo amato che li seguiva ficcare il naso nella vita degli altri e no Gesù dice stai zitto deve proprio stare nella mia sequela deve forse occupare il mio spazio sarai il mio successore sono domande che non servono che non aiutano deve durare più di me e prendersi il mio posto e la risposta di Gesù è franca e persino ruvida a te che importa tu seguimi come a dire prenditi cura della tua vita della tua situazione attuale e non ficcare il naso nella vita altrui tu seguimi questo sì è importante la sequela di Gesù seguire Gesù nella vita e nella morte nella salute e nella malattia nella vita quando è prospera con tanti successi e nella vita anche difficile con tanti momenti brutti di caduta e quando noi vogliamo metterci nella vita degli altri Gesù risponde a te che importa tu seguimi bellissimo noi anziani non dovremmo essere invidiosi dei giovani che prendono la loro strada che occupano il nostro posto che durano più di noi l'onore della nostra fedeltà all'amore giurato la fedeltà alla sequela della fede che abbiamo creduto anche nelle condizioni che ci avvicinano al congetto della vita sono il nostro titolo di ammirazione per le generazioni che vengono e di grato riconoscimento da parte del Signore imparare a congedarsi questa è la saggezza degli anziani ma congedarsi bene con il sorriso imparare a congedarsi questa è la saggezza degli anziani ma congedarsi bene con il sorriso imparare a congedarsi in società a congedarsi con gli altri la vita dell'anziano è un congedo lento lento ma un congedo gioioso ho vissuto la vita ho conservato la mia fede questo è bello quando un anziano può dire questo ho vissuto la vita questa è la mia famiglia ho vissuto la vita sono stato un peccatore ma anche ho fatto del bene è questa pace che viene questo è il congedo dell'anziano persino la sequela fortemente inoperosa fatta di emozionata contemplazione e di ascolto rapito della parola del Signore come quella di Maria sorella di Lazzaro diventerà la parte migliore della loro vita della vita di noi anziani che mai questa parte ci sarà più tolta mai guardiamoli anziani guardiamoli e aiutiamoli affinché possano vivere ed esprimere la loro saggezza di vita che possano darci quello che hanno di bello e di buono guardiamoli ascoltiamoli e noi anziani guardiamo i giovani sempre con un sorriso loro seguiranno la strada loro porteranno avanti quello che abbiamo seminato anche quello che noi non abbiamo seminato perché non abbiamo avuto il coraggio o l'opportunità loro lo porteranno avanti ma sempre questo rapporto di reciprocità un anziano non può essere felice senza guardare i giovani e i giovani non possono andare avanti nella vita senza guardare gli anziani